Lettura di Uno Stato d'Animo, memoria del tempo e comportamenti urbani nel mondo comunale italiano di Roberto Bordone, pubblicato da Firenze University Press per Reti Medievali, disponibile in download al link in descrizione. Una città è, prima di tutto, uno stato d'animo. L'esperienza cittadina italiana, in particolare nell'Italia cosiddetta comunale, costituisce per il Medioevo europeo, un fatto per molti aspetti unico e inconfondibile. Un insieme di circostanze, infatti, fece sì che nelle città italiane, a differenza di quanto accadeva al di là delle Alpi, si sviluppasse una mentalità diffusa che, nutrita dalla lezione mai del tutto dimenticata della cultura classica, contrassegnò a lungo le manifestazioni dei residenti urbani. Se il Comune, l'organismo politico di autogoverno, affermatosi tra l'XI e il XIII secolo in tutta l'area dell'antico Regno d'Italia, rappresenta il dato più rilevante e noto della peculiarità cittadina italiana, non bisogna dimenticare che esso scaturì dalle esigenze di una società che già da tempo era usa ad auto-identificarsi, chiaramente distinguendosi dagli abitanti del resto del territorio. Ben più che nel resto d'Europa, in Italia, il mondo delle città appare un altro mondo rispetto alle campagne. E non solo per la condizione giuridica degli abitanti, questi in grado di conservare collettivamente e singolarmente lo stato tradizionale di liberi collegato con l'attitudine della difesa armata, quelli soggetti invece a una sorta di servaggio, loro imposto dalla diffusione della signoria locale. Ma per l'insieme di consuetudini, di credenze, di usi che condizionano i comportamenti collettivi di una società articolata e complessa qual era quella urbana, non fosse altro che per la maggior concentrazione di abitanti e la conseguente suddivisione dei ruoli. Ma che cosa è dunque una città, e in particolare una città medievale italiana? Vecchio quesito questo, caro alla storiografia di un tempo, sul quale non ci soffermeremo in questa sede se non per prendere in considerazione, fra le altre, la definizione proposta una quarantina di anni fa da uno storico un po' anomalo come Roberto Lopez. Lo studioso italo-americano, alla seconda settimana del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo di Spoleto del 1953, in una lezione dedicata alle città dell'Europa post-Carolingia, affermava che una città è prima di tutto uno stato d'animo. Sono cittadini coloro che si sentono tali, che sono orgogliosi di appartenere a una comunità superiore al villaggio per potenza, per ricchezza, per cultura, per tradizioni artistiche, per un passato memorabile, per l'attitudine a uno sforzo comune. Possono illudersi, ma se il loro orgoglio è giustificato, trova un riconoscimento nel contegno degli abitanti del contado, che si servono della città come punto di raccolta e guardano a essa come un faro, una guida. Lopez sarebbe tornato sul medesimo concetto nel 1984, in una memorabile intervista alla terza, sulla città medievale, condotta da Marino Berengo, in cui ribadiva l'importanza della consapevolezza dei contemporanei, all'interno e all'esterno, come categoria di individuazione. La formazione culturale americana aveva in realtà suggerito a Lopez, come oltrove indicato, il ricorso a categorie sociologiche elaborate negli anni venti dalla scuola di Chicago, in particolare dalla cosiddetta ecologia urbana di Robert Park, adattandole alla situazione medievale. Proprio Park, pensando alla metropoli statunitense, aveva scritto a proposito La città è qualcosa di più di una congerie di singoli uomini e di servizi sociali. La città è piuttosto uno stato d'animo, un corpo di costumi e di tradizioni, di atteggiamenti e di sentimenti organizzati entro questi costumi e trasmessi mediante questa tradizione. In altre parole la città non è semplicemente un meccanismo fisico e una costruzione artificiale, essa è un prodotto della natura e in particolare della natura umana. Atteggiamenti e sentimenti organizzati in un corpo di costumi e trasmessi mediante la tradizione possono essere un buon punto di partenza per cercare di andare oltre le secche dell'inevitabile psicologismo implicito nello stato d'animo. Il fatto è, ammetteva Ovidio Capitani nella prefazione alla tardiva traduzione italiana delle città nel medioevo di Henri Pirenne, che anche lo stato d'animo finisce con l'essere un dato da prendere in considerazione alla pari di altri che rientrano nella categoria città. Su questo dato, o su alcuni aspetti di esso, si sono in seguito soffermati Jacques Legoff e Chiara Frugoni nell'esaminare l'immaginario urbano e sentimenti e immagini. L'ho fatto anch'io nel 1987 e ne ripropongo qui in parte i risultati. Proprio in tale sfera generale di interessi si inseriscono i saggi raccolti in questo volume, inevitabilmente rapsodico, inteso a privilegiare alcuni aspetti forse meno indagati, come la percezione del tempo, i comportamenti umani, il paesaggio sonoro, caratteristici del mondo delle città italiane, per cercare di cogliere, come indicava Park, atteggiamenti e sentimenti organizzati in un corpo di costumi trasmessi mediante la tradizione. In una prospettiva di questo genere si corre il pericolo di sconfinare in campi abitualmente distinti dall'antropologia storica alla storia della cultura, ma è un rischio che si è affrontato consapevolmente nello sforzo di restituire la complessità dell'esistente. Un esistente che si è espresso in tanti modi diversi a seconda della natura dei testimoni. Gli umili che depongono presso il giudice, i cronisti che trasmettono inconsapevolmente atteggiamenti diffusi, oppure che inviano un chiaro messaggio di propaganda politica. Per questo motivo si è lasciato ampio spazio all'oralità delle fonti, alle testimonianze narrative, rendendole in lingua italiana per motivi didattici. Ne è emerso un mondo che esprime ciò che significava essere cittadini non in modo astratto, ma negli atteggiamenti e nei comportamenti reali, sia pure circoscritti ad alcuni temi campione. Come quello del tempo. Che percezione avevano del tempo vissuto, ad esempio, le popolazioni urbane della Lombardia commisurando nello svolgimento con la limitata durata media della loro esistenza? Era un tempo che non andava oltre la memoria personale all'infanzia o all'adolescenza, scandito nella sofferta età del Barbarossa dalla violenza degli avvenimenti militari o dall'incombenza degli ordinamenti comunali. Anche le calamità naturali sembrano infatti passare in secondo ordine davanti all'ingerenza del potere. Emerge inaspettatamente una memoria politica, vivacemente attenta, più precisa di quanto ci si potrebbe attendere, e ciò che maggiormente colpisce è la sostanziale omogeneità di reazione alle sollecitazioni degli inquirenti, tanto in città quanto nel contato da essa dipendente. Sul finire del XII secolo, infatti, l'intero territorio appare coinvolto nel sistema mentale urbano, tanto l'esperienza comunale cittadina è stata livellante, almeno sul piano politico, nei confronti dei sottoposti. Traccia non indifferente dell'avvenuta conquista del contado, anche nell'esportazione e nell'affermazione egemonica di una mentalità cittadina senza, si direbbe, concorrenze serie, collegata con una più capillare diffusione delle notizie. Così, un contadino del luogo di Olmo, presso Piacenza, fa riferimento al tempo di un preciso consolato piacentino. Come lo conosci? Gli viene chiesto dall'inquirente. Perché così ho sentito dire dai miei vicini? È la risposta. L'episodio appare più eloquente di quanto in sé non dica. La campagna assorbe l'esperienza della città, ne vive quasi una luce riflessa. Ed è un'esperienza in prima istanza politica, nel senso dell'affermazione di un potere amministrativo istituzionale che si espande a tutte le manifestazioni della vita, come appunto la memoria. Se da questo modesto esempio rurale possiamo scorgere un embrione, quasi, di memoria del vissuto, che si avvia a divenire memoria storica grazie all'aggancio con una manifestazione politica, tanto più abbondante sarà la messe da raccogliere direttamente presso gli intellettuali urbani che quella mentalità storica vanno forgiando, sia pure a scopo in gran parte propagandistico. Si può anzi dire, e non è certo una novità, che la memoria storica costituisca proprio il maggiore soggetto della produzione letteraria cittadina, appassionantemente municipale, sostanzialmente laica, nonostante l'impianto di derivazione religiosa. Politica, anche in questo caso. Non vogliamo qui soffermarci su un tema tradizionale e ben esplorato anche dalla storiografia più recente, quanto piuttosto sottolineare alcuni aspetti significativi della percezione dell'utilizzo della memoria del passato urbano. In particolare si tratta dell'uso retoricamente esemplare che di esso viene fatto dagli scrittori cittadini in determinati momenti di crisi della società e del sistema. Il meccanismo è sostanzialmente semplice. Alla presunta decadenza del presente si contrappone un passato migliore attribuendogli caratteristiche mitiche. L'evocazione del tempo mitico presenta tuttavia regole abbastanza precise che prescindono dalla sua esatta collocazione cronologica, ma assumono connotazioni universali. Già noto alla cultura classica come età dell'oro, che talvolta gli autori medievali deliberatamente riprendono, il tempo mitico cittadino è quello in cui la città era ricca, ordinata, pacifica e gli abitanti sani, attivi e di buoni costumi. Lo schema non muta con il mutare della collocazione nel tempo storico del tempo mitico. Per il milanese Landolfo Signore, che vive nella seconda metà dell'undicesimo secolo, si colloca cent'anni prima o anche cinquanta fino alla morte dell'arcivescovo Ariberto. Per il contemporaneo lucchese Rangerio, nell'età che precede la lotta per le investiture. Per Dante, il Villani e Riccobaldo, nella prima età comunale, cioè nel dodicesimo secolo, o al tempo del primo popolo a Firenze. Un po' diversa appare la posizione dell'astigiano Guglielmo Ventura, per il quale non si può parlare di evocazione di un tempo mitico vero e proprio, ma che individua comunque nella storia della sua città un immediato prima di segno positivo, e un dopo che corrisponde all'età a lui contemporanea. In tutti è in ogni caso sottesa un'ideologia, o un ideale, di conservazione, in quanto tutti si rifanno a un tempo migliore o presunto tale, mitizzato e dunque mitico nelle sue manifestazioni, o reale come nel Ventura, sforzandosi di individuare e di interpretare le trasformazioni socio-istituzionali che hanno causato il mutamento dei tempi loro. Nonostante il rifiuto del cambiamento e il ricorso alla rievocazione mitica, talvolta la loro analisi appare acuta, come nel caso di Rangerio, di Dante o del Ventura. I primi due, infatti, individuano con sicurezza due svolte significative nella storia cittadina, sebbene poste a distanza di due secoli l'una dall'altra, determinate dalla stessa causa, l'incremento demografico provocato dall'inurbamento del contado, destabilizzante in quanto scatena concorrenze in città, provocando la crisi della presunta unanimità originaria. Ma al di là dell'individuazione della causa, il sentimento scatenante è la paura del diverso e dell'estraneo, la paura di qualcosa che venga, o è già venuto, a turbare il complesso di atteggiamenti e sentimenti organizzati in un corpo di costumi e trasmessi mediante la tradizione. Uno stato d'animo, dunque. E all'estraneo si attribuiscono allora i difetti che si contrappongono alle virtù degli autoctoni e da ciò discendono, come per il cobaldo, i mali attuali della società. Usura, frodi, rapine, spoliazioni, oppressione degli innocenti, lotte fratricide. Il buon tempo antico come mitica età dell'innocenza Alla paura, per così dire, antropologica della contaminazione della comunità, la dantesca confusione delle persone, si contrappone nei fatti la capacità di omologazione da parte della società cittadina. L'inurbato che diventa civis apporta il suo bagaglio di esperienze che vengono assimilate dalla cultura urbana. Lo scambio è diseguale perché lo stato d'animo cittadino finisce sempre per prevalere per la robusta tenuta dei valori radicati. David Herlihy nel 1976, pur nel suo apprezzabile sforzo di verificare le interazioni fra società e spazio nella città italiana del Medioevo, certo eccede in schematismo, considerando i modelli susseguenti di città patrizia, città plebea e città signorile, come conseguenza di successivi inurbamenti del contado, rispettivamente di grandi famiglie che portarono alle città uno stile di vita e l'intero arco di istituzioni sociali che caratterizzavano la loro esistenza nella campagna, poi di ceti rurali medi e meno abbienti che modificarono le caratteristiche della città e così via. In questo modo la città italiana diventerebbe un puro contenitore, di volta in volta riempito di atteggiamenti e culture diverse, secondo un orientamento diffuso dalla storiografia anglo-americana che ho avuto da tempo occasione di contestare e sul quale qui non intendo più soffermarmi. Già un attento studioso delle campagne come François Menard aveva, d'altra parte, rilevato le differenze essenziali che intercorrono tra i valvassori e i capitanei inseriti nella cittadinanza di Milano e quelli senza alcun legame urbano. Che i modelli signorelli rurali attraggano invece gli intraprendenti astigiani sul finire del 200 è fatto chiaro dal Ventura, ma in tutti i casi si tratta di un capovolgimento della prospettiva. Qui sono i cives, maggiorenti del governo comunale e della società cittadina, ad ambira e impossessarsi del territorio comunale, scatenando la condanna del cronista popolare che difende invece la conservazione del sistema, stigmatizzando la decadenza del presente rispetto a un passato recente ma già quasi tempo mitico, anzi, non senza sfumature epiche in cui si era realizzata la sua orgogliosa ideologia il suo stato d'animo, di città comune che protegge e nutre la campagna e mantiene la pace interna ed esterna. Se la città, almeno nelle sue strutture mentali più profonde appare tutt'altro che il luogo del mutamento tanto da provocare presso i conservatori periodici appelli al ritorno alle origini c'è da chiedersi in che cosa consistano tali presunte origini quali siano cioè i modelli di comportamento in cui si incarna lo stato d'animo urbano a partire da quando le fonti ci consentono di coglierne degli aspetti da quando cioè la città si mostra nella coscienza dei suoi intellettuali come un mondo a parte con proprie caratteristiche peculiari e qui troviamo subito nel corso dell'undicesimo secolo e poi nell'incipiente cultura comunale proprio un modello di costume militare che non ha certo bisogno di attendere eventuali apporti dalle corti signorili del contado occorre d'altra parte considerare che proprio l'uso collettivo delle armi appare elemento distintivo rispetto alla popolazione della campagna non un elemento si badi ma l'elemento distintivo principale in una società ancora prossima alla distinzione germanica fra liberi e non liberi basata sulla distinzione fra armati e inermi la detenzione delle armi costituisce il segno e la causa della libertà cittadina la società cittadina come comunità armata appare dunque del tutto naturale che fra il corpo di costumi della città la tradizione militare rivesta un ruolo di primaria importanza reale e simbolica la successiva diffusione in tale società più o meno estesa a seconda delle singole realtà cittadine di istituzioni tecnicamente militari come quelle feudali non monopolizza l'attitudine urbana alle armi anche se senza dubbio la complica o almeno la complica ai nostri occhi di osservatori esterni per l'ambiguità del linguaggio delle fonti ma la curia feudale del vescovo resta comunque una realtà cittadina una realtà che si affianca con il gruppo di quei cives maiores che nella stratificazione sociale della città sono tali per un prestigio che viene loro attribuito non soltanto per superiorità di censo ma anche per attitudine al comando militare in questo ambito si cercano e si trovano gli eroi elaborando dei veri e propri modelli ideali di combattente urbano come Lanzone ed Erlenbaldo per Milano tali figure infatti non sono altro che la proiezione dei desideri dell'immaginario militare e al tempo stesso sapientemente plasmati dalla cultura degli intellettuali urbani costituiscono degli exempla per tutti i cives combattenti la mediazione fra il personaggio e i suoi fruitori viene attuata da chi detiene gli strumenti dell'informazione al principio dell'undicesimo secolo questi chierici colti che abbiamo appunto definito intellettuali urbani che sanno rivestire la brutale supremazia militare che piace alla folla con panni aulici desunti dalla cultura classica di cui si sentono i legittimi continuatori è in questa fase di riappropriazione degli auctores da parte della cultura cittadina che comincia a prendere forma cosciente quel corpo di costumi ispirato all'emulazione della romanità la patria catoniana diventa la città l'urbanitas ciceroniana la cortesia l'eroe milanese Erlenbaldo nelle battaglie forte come Cesare il console pisano Enrico un secondo catone un secondo Ettore un secondo cicerone sono eroi e modelli di un etos che di là a poco si definirà cavalleresco cortese incontrandosi con suggestioni provenienti da una cultura quella provenzale che si era nutrita alle fonti comuni anche a quella delle città italiane certo sono modelli per uno stile di vita possibile ai ceti abbienti a quei milites della città che nel XII secolo trascorrono il loro tempo godendo dei piaceri mondani secondo l'uso della città natale e combattendo nei tornei ma di loro possono andare fieri anche i più modesti pedites perché tanto i cavalieri quanto i fanti appartengono alla medesima società cittadina resa illustre dal loro comportamento non c'è ancora contraddizione la città natale o se c'è appartiene alla sfera della lotta politica non a quella della comune appartenenza agli ideali municipali e della loro rappresentazione ciò che conta sottolineare i fini del nostro assunto è che lo spirito cavalleresco cortese appare parte essenziale dello stato d'animo cittadino ancora recentemente Stefano Gasparri ne ha sottolineato per il 200 la diffusione contestando la superata visione di un mondo cittadino borghese chiuso ai valori e ai costumi della società aristocratica quali ad esempio i tornei il che poi non significa postulare apporti esterni alla città per ogni manifestazione aristocratica esiste cioè un etos cittadino che si può definire aristocratico proprio in quanto cittadino la cultura della città italiana è infatti consapevole di una superiorità rispetto alla campagna che si esprime da una parte con la celebrazione del decoro urbano e dall'altra con il disprezzo del mondo dei contadini e con la diffidenza nei confronti della nobiltà rurale l'aristocrazia della città almeno quella che si autocelebra tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo si distingue da quella del contado per il suo sistema di produzione basato in prevalenza sull'economia mercantile non di certo per lo stile di vita che come si è visto si ispira ai medesimi ideali cavalleresco cortesi c'è in definitiva una sorta di standard comportamentale che nella società medievale accomuna il ceto eminente ovunque sia collocato al di là di questo tuttavia l'aristocrazia cittadina proprio in quanto ceto eminente pare reassumere in sé le caratteristiche del personaggio città così come sono andate definendosi nel tempo quasi le pervenissero dalla nobiltà stessa del personaggio e non viceversa questa città per il suo costume fa uso di pellicce di scoiattolo e di martor di altri preziosi ornamenti e di vivande delicate viene detto in tono di rimprovero al principio del XII secolo a un neo-arcivescovo di Milano comparso in umili abiti eremitici esortandolo ad adeguarsi alla dignità richiesta dal costume cittadino è la civitas dunque a imporre lo stile di vita solo seguendo il quale ci si può sentire cittadini è la sua cultura l'insieme delle sue tradizioni il rispetto della sua dignitas una dignità che impone un comportamento morale e che al tempo stesso lo garantisce chi vive fuori dalla città è da esso in un certo senso escluso i contadini infatti non sono solo ignoranti e zotici ma anche moralmente colpevoli perfidi, cattivi come il diavolo per chiunque viva fuori dalle mura agli occhi dei cittadini difficilmente c'è speranza di salvezza perfino nei confronti della nobiltà del contado la cultura urbana manifesta diffidenza infatti è costume dei marchesi voler rubare piuttosto che vivere secondo giustizia secondo il vecchio cronista genovese Caffaro è curioso rilevare come a distanza di mezzo secolo in due cronisti cittadini uno di Milano e l'altro di Genova ricorra il medesimo termine mos per indicare ciò che distingue la città dal resto del mondo la contrapposizione dei costumi ed ecco che si torna alla definizione di città come stato d'animo inteso come corpo di costumi che impongono di vivere secondo giustizia con eleganza di modi celebrando il valore militare con la consapevolezza di appartenere a una comunità che fonda il suo prestigio sull'antichità di tradizione religiosa e civile ma non solo per chi vive quotidianamente in città esiste una sfera di sensazioni meno coscienti che contribuiscono alla creazione dello stato d'animo in misura non minore rispetto ai messaggi verbali divulgati dalla cultura ufficiale l'ambiente fisico nei quali i cittadini sono immersi la ripetizione dei gesti e dei suoni le abitudini acquisite i ritmi consueti dell'esistenza e dell'attività appaiono come impalpabile habitat in cui si manifesta l'esperienza irriproducibile della vita della città medievale se la città è un prodotto della natura umana come dice Park lo è in misura uguale questo habitat non casuale plasmato dall'incontro fra ideali ed esigenze concrete fra ideologie e bisogni il paesaggio edificato come specchio della concezione della società e insieme come risposta ai problemi della convivenza anche su questo aspetto la storiografia da tempo si interroga sollecitando l'incontro fra urbanisti e storici per superare l'apparente iato fra la città di pietra e la città degli uomini ma quando anche si ricostruisce il paesaggio urbano individuando correttamente in essi fra edificio e simbolo restituendo la logica del sistema che ha operato le scelte urbanistiche rimane tuttavia un paesaggio muto una brillante operazione di laboratorio alla quale manca sempre il suono della vita si può andare oltre individuare di quell'habitat i rumori d'ambiente il paesaggio sonoro è in realtà un nuovo stimolante campo di indagine suggerito da uno studio di Alain Corbin dedicato alle campane nelle campagne francesi del XIX secolo nell'ultimo saggio del presente volume ho voluto esplorare questa dimensione nella città italiana del medioevo e i risultati sembrano incoraggianti perché ci fanno forse penetrare più a fondo in quello stato d'animo fatto anche di sensazioni fisiche come la ricezione di messaggi sonori una ricezione che appare ancora più immediata di quella della parola ma che al pari di questa può costruirsi in un articolato sistema di comunicazione quando vi sovraintenda la deliberata intenzionalità di chi lo produce non dunque tutti i rumori l'abitudine ai quali ce li rende inavvertibili ma quei suoni che intenzionalmente risvegliano l'attenzione richiamano un compito divulgano un'informazione senza ricorrere a un sistema verbale per tutto l'antico regime ben oltre i limiti cronologici del medioevo la campana ha costituito il potente strumento di un linguaggio non verbale universalmente comprensibile tanto più che nel mondo delle città medievale italiane dove molto precocemente accanto al tradizionale significato religioso ne ha assunto anche uno civile e politico al punto da indicare per antonomasia all'esercizio delle prerogative autodeliberanti del comune il suono delle campane infatti convoca e legittima l'alto consesso del parlamento cittadino la contio accanto alla campana la tromba può trasformare quel consesso in esercito combattente impartire ordini suonare l'attacco e non si tratta soltanto di uno strumento funzionale al suo scopo ma diventa il segno stesso della tradizionale autonomia militare se il Barbarossa sconfitta Milano le impone la consegna di due trombe a simbolo dell'intero comune milanese ritorna qui quell'identità fra popolazione urbana ed esercito cittadino che abbiamo visto alla base della solidarietà fra gli abitanti e a loro costituirsi in comune simbolico e funzionale insieme il linguaggio dei suoni che rende articolato e intelligibile gran parte del paesaggio sonoro urbano scandisce anche la quotidianità dell'esistenza cittadina ne regola il tempo a intervalli prestabiliti il tempo liturgico quello della giustizia quello del lavoro quello degli ordinamenti il tempo della vita e il tempo della morte la campana rintocca per chiamare i fedeli alle funzioni religiose per convocare i giudici al tribunale per scandire l'orario di lavoro per segnalare il coprifuoco notturno per accompagnare le esecue dei defunti chi vive in città si impossessa di questo codice articolato che diventa la colonna sonora consueta della sua esistenza ma che entra anche a far parte del collettivo corpo di costumi urbani comprensivo dell'orgoglio municipale dell'adesione ai valori militari del disprezzo dei contadini della memoria del tempo mitico chi vi aderisce nel suo complesso lo fa perché si sente cittadino giuridicamente lo sarà in quanto risiede in città contribuisce alle imposte partecipa agli obblighi comuni ma occorrono sempre delle ragioni anche psicologiche per operare certe scelte o perlomeno per giustificarsele la città italiana in quanto tale e il comune cittadino come ente politico riuscirono grazie a una raffinata strumentazione culturale a creare il consenso intorno al concetto forte di appartenenza a un'entità la civitas considerata superiore a ogni altro raggruppamento umano a nessun contadino poteva venire in mente di sentirsi fiero di essere tale nessun nobile del contado spingeva il suo orgoglio al di fuori del proprio o comunque circoscritto ambiente parentale per i cives l'orgoglio di appartenere a un ambito collettivo era invece uno stato d'animo diffuso a tutti i livelli che andava oltre la celebrazione della stiape o l'animosità del raggruppamento politico è il ghibellino farinata che si oppone a viso aperto alla distruzione di Firenze pur diventata nemica mortale la cultura cittadina italiana riuscì in conclusione non solo a creare un inconfondibile stato d'animo patrimonio di tutti i residenti urbani ma anche a trasformarlo in un modo etico di essere distintivo rispetto a ogni altra realtà sociale